L'incidente stradale nel Cosentino, un morto e 5 feriti. E' di una donna deceduta e 5 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 18 nel comune di Tortora, tra le autovetture coinvolte una Fiat Tipo, una Renault Megane e una Hyundai. Tre i feriti, un bambino mentre una persona è rimasta incastrata tra le lamiere e estratta dai vigili del fuoco e stata affidata dal personale sanitario del SUEM 118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale. Sul posto l'elisoccorso, la polizia stradale e due ambulanze, oltre a una squadra dei vigili del fuoco, dell'istaccamento di scalea.